In questo video parliamo dei matrimoni che durano tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Ciao sposine, dopo il video che ho fatto tempo fa, meglio un matrimonio a pranzo o a cena, o di giorno o di sera, tante di voi mi hanno scritto dicendomi, ma io come devo fare che invece voglio un matrimonio che duri tutto il giorno, a pranzo e a cena? E allora ho deciso di fare questo video, perché evidentemente è un'esigenza che avete in tante, perché in diverse zone d'Italia c'è ancora la tradizione di fare il matrimonio che duri tutto il giorno. E come si fa a resistere fisicamente ad un matrimonio che duri tutto il giorno? Perché non è tanto semplice, bisogna organizzarlo bene. Partiamo dal nocciolo della questione, la vera differenza da dove nasce? Nasce da questo, gli invitati sono gli stessi per tutto il giorno? Cioè le stesse persone staranno con voi dalla mattina fino alla sera? O sono invitati diversi? Quindi in alcune zone d'Italia c'è questa abitudine di fare il pranzo con i parenti e con gli invitati un po' più agé, diciamo così, e poi a cena invece si fa il matrimonio giovane con gli invitati, gli amici, i parenti più giovani. Sono due matrimoni completamente separati. Oppure c'è la versione 3, e cioè si fa il matrimonio a pranzo con gli invitati più importanti che poi vengono raggiunti da altri invitati per la cena. Quindi i poveretti all'inizio rimangono fino alla sera. Ecco, questa è la vera differenza, perché fondamentalmente se gli invitati sono diversi non è che ci sia granché da fare, sono da organizzare due matrimoni in pratica. Uno per il pranzo e uno per la cena. Ma se ci sono degli invitati che devono starli tutto il giorno, allora sì che bisogna veramente organizzare bene tutto. Non bisogna assolutamente lasciargli dei tempi morti perché si annoierebbero, si stancherebbero molto di più, però dall'altro lato bisogna dargli un po' la possibilità di rilassarsi, quello che io chiamo un relax organizzato. Bisogna studiarlo bene. Io boccio categoricamente quei matrimoni dove si sta seduti a tavola dal pranzo fino alla cena. Cioè si sta seduti, si mangia primi, contorni, secondi, sorbetto e sono già le 5, le 6 del pomeriggio e si ricomincia dal primo. Questi poveri invitati arrivano distrutti. Questo tipo di matrimonio sinceramente ve lo sconsiglio vivamente. Ci sono delle alternative. C'è la possibilità di far vivere una bellissima giornata ai vostri invitati che staranno lì con voi. Come? Creandogli degli angoli relax, creandogli dei momenti diversi. Per esempio un angolino relax con poltroncine, cuscini e un po' di musica sottofondo e magari dei cocktail serviti per riposarsi un pochino. Oppure un angolo con dei musicisti che suonano dal vivo. Chi vuole va, si fa una passeggiatina, si siede ad ascoltare un po' di questo concertino. Ovviamente parlo dopo il pranzo, una volta finito il pranzo. Oppure si può organizzare una passeggiata all'interno della location. Ci sono alcune location che hanno o dei parchi, dei giardini meravigliosi per cui all'interno del parco si possono creare degli angoli. L'angolo tisane, l'angolo rumessigari, l'angolo dei dolcetti. E così gli invitati fanno una passeggiata, guardano tutto il parco e hanno degli intrattenimenti fra il pranzo e la cena. Oppure ci sono delle location che hanno delle zone museali bellissime e quindi si può organizzare la visita guidata della zona museale. O ancora delle cantine, quindi con degli assaggi magari di vini da fare anche se si è già fatto il pranzo, visitare le cantine e capire come funzionano. Sono tutte cose molto interessanti, però dovete trovare qualcosa da fargli fare a questi invitati. Non potete lasciarli lì a ciondolare da soli tutto il pomeriggio in attesa che cominci la cena. Prima ho parlato di un concertino, ma possono essere anche spettacoli veri e propri di altro tipo. Quindi a un certo punto ci si sposta per lo spettacolo. Può essere un balletto, un concerto, un mago, un comico, degli artisti di strada, un qualcosa da fargli godere per godere del tempo insieme facendo un qualcosa di diverso, di divertente, di interessante. O altrimenti potete creare delle zone gioco. Adibire una zona della location a intrattenimento e voglia di passare un po' di tempo relax, trovi la scacchiera, trovi degli altri giochi da fare, giochi in giardino e li fai divertire, li fai passare il tempo prima di sedersi di nuovo a tavola per la cena. Tra l'altro bisogna anche considerare un'altra cosa, che alcuni degli invitati, soprattutto se ce ne sono degli altri che arrivano per la cena e quindi saranno abbigliati da sera, cioè vestiti da sera, quelli che erano da pranzo potrebbero avere il desiderio, se non abitano troppo lontano, di andarsi a cambiare e riprepararsi per presentarsi vestiti correttamente da cena. Chi è legato alle regole del Galateo ci tiene tanto a questo, non gli piace stare vestito a cena come era vestito a pranzo, quindi c'è anche questa cosa qui da poter valutare. Se gli invitati abitano tutti vicini si può pensare di far rilassare alcuni, mentre quelli che desiderano andarsi a rinfrescare, a cambiare, vanno e poi tornano insieme agli invitati aggiunti che arrivano direttamente per la sera. Fondamentale per riuscire a fare tutto questo è studiare il timing super preciso della giornata. Quanto dura il servizio del pranzo? In questo fatevi aiutare dal catering, dal ristorante, fatevelo dire in maniera super precisa. A che ora dovrà iniziare la cena? Voi dovete sapere esattamente quanto tempo avrete da riempire per questi invitati, per non farli stancare, intrattenerli, ma farli anche rilassare. Quindi sapere i tempi precisi è la cosa più importante di tutte, poi però bisogna anche rispettarli. Quando c'è un gruppo di invitati che arrivano per la cena bisogna anche capire che tipo di banchetto si aspettano, perché quelli del pranzo hanno mangiato sicuramente tantissimo. A cena che cosa succede? Queste persone che di solito sono ragazzi, sono giovani e arrivano dopo, che cosa gli farete mangiare? Volete fare un cocktail? Volete fare una cena vera e propria? Volete fare un buffet? Il consiglio che vi do io è quello di farli mangiare? Cioè non date per scontato che siccome quelli di pranzo hanno mangiato tanto, a cena basti poco, perché quelli che arrivano per cena devono mangiare. E mi è capitato di vedere da invitata matrimoni dove la sera il buffet era veramente scarsissimo, non c'era neanche da mangiare per tutti. Questo non deve assolutamente accadere. Se li invitate per cena, cena deve essere e li dovete saziare. Il taglio della torta, quando si fa? Questa è un'altra domanda che mi avete fatto. Allora, se cambiano gli invitati, cioè se quelli del pranzo se ne vanno, il taglio della torta tassativamente va fatto dopo pranzo, anche perché di solito gli invitati del pranzo sono quelli un po' più importanti a livello ufficiale, diciamo così. Poi se volete potete fare un altro taglio della torta con gli amici la sera, però dopo pranzo assolutamente va fatto. Se invece gli invitati sono gli stessi per tutto il giorno, comunque quelli di pranzo si ritiene che debbano rimanere tutto il giorno, allora potete anche pensare a un taglio della torta più d'atmosfera, però non troppo tardi, perché comunque le persone che sono lì dalla mattina a un certo punto vorranno andare via e normalmente è il taglio della torta che dà il via per potersene andare a casa e quindi non fateli stancare troppo. Ultima domanda che mi avete fatto legata a questo argomento è le bomboniere. Se gli invitati sono diversi, devo farle uguali e devo far diverse, sempre partendo dal presupposto che gli invitati per il pranzo di solito sono quelli un po' più importanti e si vorrebbero gratificare con una bomboniera altrettanto importante. Qui la faccenda è un po' complicata, nel senso che se gli invitati del pranzo poi se ne vanno, chiaramente la bomboniera si dà dopo pranzo e può essere completamente diversa da quella che viene data alla seconda tranche di invitati, diciamo così. Ma se gli invitati del pranzo rimangono, può diventare imbarazzante dare delle bomboniere diverse? Io personalmente non ve lo consiglio assolutamente perché è una cosa proprio brutta. Si capisce che si fanno delle preferenze e allora l'unica possibilità che mi è venuta in mente per fare delle bomboniere diverse senza farsene accorgere è di avere le scatole identiche, usare dei nastri di colore diverso e di mettere dentro degli oggetti differenti. Però va gestita alla perfezione, è complicatissima questa cosa. Intanto devono essere le bomboniere non raggiungibili dagli invitati perché sennò sicuramente sbagliano e prendono quella che non era per loro e poi comunque anche chi le distribuisce deve essere veramente lucido sul momento per rendersi conto di quale colore di nastro deve consegnare, quindi è un po' complicato. La soluzione che mi viene in mente è fare le bomboniere uguale per tutti, così quando è il momento di consegnarle si consegnano senza problemi, senza fare errori. Però magari agli invitati del pranzo si può pensare ad un segnaposto prezioso, bello, che entri nella borsetta, quello è anche il motivo per cui non si può dare la bomboniera finito il pranzo perché se poi rimangono fino alla cena non è che possono andare in giro con la scatola della bomboniera dove la mettono, è una scomodità assurda, quindi la bomboniera comunque si dà a fine giornata, però se gli volete fare un pensiero speciale fate un segnaposto che per definizione è piccolo perché deve stare al posto, al tavolo e lo possono mettere nella borsetta, così avranno due regali e saranno sicuramente più gratificati rispetto agli invitati della sera, poverini, che sono un pochino di serie B. Spero di aver risolto tutti i dubbi che vi erano venuti su questo argomento, altrimenti sapete dove scrivermi e sapete anche che vi risponderò. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!